La nata è importante quella di oggi che appunto evidenzia l'attenzione verso la Calabria, verso il Sud, ma che ne vuole qualificare quelle che sono le tantissime potenzialità e quella che è appunto il patrimonio inestimabile. La giunta dell'Umbri nazionale ha inteso insieme a tutto l'Umbri nazionale ripartire dalla Calabria, quindi una ripartenza nella bellezza, una ripartenza secondo le regole, ma una ripartenza anche nell'indirizzo innovativo della programmazione e con il costante contatto con le prologo. Quindi questo è sicuramente un segnale determinante, importante, un segnale che appunto vuole creare questa rete locale, ma questa rete sempre più allargata attraverso la cooperazione e la collaborazione con tutti gli attori territoriali, con le istituzioni e dove appunto le prologo e l'Umbri hanno un ruolo decisivo e strategico per lo sviluppo e la crescita dei territori.